25esimo della Corale San Martino di Gorno, corale parrucchiale che è molto impegnata e che ha preparato tutto un anno di iniziative. Che cosa riguarderanno appunto i prossimi appuntamenti? Sì, abbiamo preparato qualche data per festeggiare perché un compleanno è bello quando lo si festeggia con gli amici. Quindi abbiamo cercato di creare qualche appuntamento volto a coinvolgere le corali della zona. Quindi non solo concerti, anche celebrazioni ovviamente liturgiche e tanto per cominciare una prima serata di una tavola rotonda. A cui interverrà un ospite ovviamente molto gradito e molto competente. Chi è, quale sarà il tema e a chi è rivolto? Allora sarà Don Gilberto Sessantini che è il responsabile dell'ufficio diocesano di Musica Sacra. Sarà sabato 6 aprile alle ore 20.45 presso l'Oratorio di Gorno e avrà per tema il ruolo del coro nella liturgia. Perché girando un po' tra i cori, conoscendo un po' l'ambiente musicale e corale dei nostri corali parrucchiali, si avverte in questi ultimi anni un po' di insofferenza verso quella frase che per molti suona un po' come una pugnalata al cuore, che è quella di far cantare l'assemblea. Allora noi in questa serata cercheremo di far capire che nessuno vuole la disfatta delle corali parrucchiali, ma anzi è un periodo per rivalutare il loro ruolo nella liturgia. E cercheremo appunto di spiegare che cos'è questo ruolo. Sono ovviamente invitati i direttori di coro, gli organisti, anche i sacerdoti, perché no? Ma soprattutto io direi i coristi, perché credo che cantare bene comporti anche conoscere qual è il proprio ruolo all'interno del coro e all'interno della vita parrucchiale. Quindi si comincia con un momento di riflessione che si concluderà poi con un rifresco, quindi anche un momento conviviale e poi via nei prossimi mesi diversi appuntamenti che riprenderemo man mano. Sì, a cominciare poi dalla fine mese, fine aprile, ci concederemo una visita a Bergamo, a Città Alta, per cantare una messa, rendere omaggio alla nostra diocesi nella cattedrale di Sant'Alessandro.